Cazzo speriamo di non trovare qualche cane Ciao bei vitellini, siete tutti dei bei vitelli Oggi sono in un altro angolo di paradiso E' precisamente al passo del piccolo San Bernardo in direzione La Rosière Questo che vedi su Youtube non lo trovi E' un trail che fa parte del tour dei trasfrontalieri da poco tutto segnato Che parte dalla Twill alla Rosière L'ho detto tutto in un fiato Sono a quota 2.200 metri Ciao mucchine, ciao belle Guardate che sono vitelli Questo trail è fantastico perché va in direzione La Rosière E' tutto bello flow da guidare con delle passerelle Insomma, se non l'hai già fatto iscriviti sul mio canale A me fa piacere e a te non costa nulla Ciao da Enzo sempre più in alto Ah già, dimenticavo Comunque in descrizione trovi la traccia per venirlo a fare Ok Ora aspetto che passa un po' di gente e poi vado giù a cannone Ciao ragazzi Mamma, stai tranquilla In discesa vado piano Sono più forte in salita Non ti preoccupare Eh, questo l'hanno messo per le muche Comunque se vedi è tutto segnato Tra l'altro è anche una bella discesa incazzata Hannibal Questa discesa si chiama Hannibal Hannibal del Cannibal Oh, solo sul mio canale trovate questi sentieri ragazzi Un sentiero tutto inedito Ditelo ai vostri amici Bello, tutto da guidare Cannibal Hannibal The Cannibal The Cannibal Un sentiero Grazie a tutti. Grazie a tutti. 40 km oggi lo sto praticamente facendo tutto anche se non sono salito dalla Quill ma sono salito dal passo del piccolo San Bernardo ho preferito fare la strada perché due giorni fa l'ho rifatto e non volevo farlo ancora diciamo dai tutto lì il discorso. Hannibal! Questa è la parte più bella del percorso. Dai Giant! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.